I bring you peace, maledetto, non è vero, non ti credo Neanche il tempo di arrivare qua, guarda Ah, ma Non è lo stesso percorso che avevo raggiunto, ok Era lì quello Coda Ok Doppie spade, tu? Ma sei un figazzo C'è anche un pazzo Però I figazzo non di meno Mamma mia Che violenza Ma Ti vuoi calmare Mi sa che la tua risposta è no Ok Vedrò dopo cosa mi droppa Voglio andare? Oh oh Nooo E dai Ti avevo sconfitto E' stato bello però E' stato bello Peccato Allora Dovremmo risvegliare la principessa Quindi adesso mi dovrei scontrare con i lancieri Suppone E va Torna da dove viene Abisso scorre in profondità Per decreto reale Proibito di stupare il sole Eh no eh Io sono la sveglia E tu sei le 8 di mattina Oh Vabbè Si sta così Il decreto del re Non può essere ignorato Poi vanno a andare Nooo Argo il giudicatore No Sei tu Ok Quindi tu sei il lanciere della chiesa Ok 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 Proteggi la principessa Come è stato depredato Quindi L'avessi ammazzato in tempo Poi far via Ma che Eccomi Ma che caspita Che è successo? E uno è morto Però ora Lanciere della chiesa E uno è grigio Sei riuscito a farmi dire? Sì 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 Un sacco di cosi sono dicesse Ma Infatti me l'ho scantato In un altro modo Dove pensi di scappare tu? Maledizio Vabbè Che vanno a spesso la luce? Eeeh Non lo so Sinceramente Non lo so Che io allora Corro da lui E va bene Questo è un protettore del dipinto No? Guardiano della chiesa Lo stai facendo Cono senza braccio Senza braccio Perché? Così Come? Così Probabilmente Perché posso essere Invaso anche Dagli altri No Eh vabbè Eh vabbè Non riuscivo a fare entrare E va bene così Ma Che cazzo Eeeh Sta merda Ma orada Questo coso mi doveva far male Sì Sono stato invaso Va bene Letteralmente Per impedire Altro che privedino Va bene Va bene Ma che presa in giro è Fammi picchiare almeno l'altra Se ti vuoi scontrare così È solo cattiveria da parte tua a sto punto Te? Va bene Guarda che merda Guarda che Guarda che Guarda che E vabbè Ti piace farti curare Dai nobdo Vabbè ma io l'avevo fatto che cazzo di tecna vaffanculo ma chi me lo fa fare se sta spazzando I'm very horny non credo sia un NPC Chi lo sa Dicidi no Non puoi fare danno con quel coltellino di cazzo Tutto sto danno Ok 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 Dai E' data lo avevo parato Ma vergognati Cogniti. Va bene. Sto cazzo di range, di sto spadone della minchia. E ti vuoi scantare? No, non si vuole scantare. Sto facendo un attacco! Va bene. Questo è vestito da Soler. Mi stai dicendo che non sono NPC. No, saranno giocatori. Si è messo pure la resina elettrica. Si, sono giocatori. Ebbà, fanculo, vergognati. ecco che ti fai curare c'hai pure le skill di cura ma vergognati vergognati che maledetto devi partire dalla premessa che non è che non è una battaglia assolutamente alla par